Il ritorno del Corvo a Bologna ha consegnato in procura un secondo dossier anonimo nel mirino a parte di quattro enti. Cantieri bloccati per la crisi, quasi fermo al piano alloggi low cost della regione. Cinema, al Via Lumière, visioni italiane, concorso nazionale per corto e medio metraggi. Sport, Bologna in campo al Dallara contro i giallorossi di Montella. Buongiorno dal Tg La Stefani. Come avete sentito nei titoli, un nuovo anonimo dossier è stato recapitato alla procura di Bologna e alla redazione di Un Quotidiano Locale, i particolari nel servizio di Mauro Giordano. Il primo a finire nel mirino dell'anonimo Corvo era stato Virginio Merola, candidato del centro-sinistra alle prossime elezioni comunali. Adesso il cerchio si è allargato. Nel cosiddetto dossier bis pare vengano ricostruiti i rapporti più o meno pericolosi che coinvolgono quattro enti. Cipea, Idroter, Acer e Acer Manutenzioni. Nelle pagine recapitate alla procura di Bologna e alla redazione di Un Quotidiano Locale si leggerebbe di nomine, offerte e appalti assegnati in maniera sospetta. Sarebbe coinvolto anche un altro consorzio, il CARIE, legato a Confartigianato e alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Il documento batterebbe quindi su questioni su cui la procura ha già aperto delle inchieste, ma contribuisce ad alimentare il clima di tensione in vista delle elezioni comunali. Intanto, Virginio Merola si dice pronto a tornare in procura e chiede un patto anticorbo. E' arrivata la notizia della rinuncia di Bruno Filetti a correre per il centrodestra. Dopo la rinuncia alla candidatura di Giancarlo Mazzuca e di Alfredo Cazzola e la tentazione di presentare il commissario Anna Maria Cancellieri, ora anche il numero uno della Camera di Commercio di Bologna dice no al PDL. Torneranno in Italia entro stasera i 22 bolognesi bloccati in Libia. Il gruppo era partito il 14 febbraio, pochi giorni prima che il paese insorgesse contro Muammar Gheddafi. L'unità di crisi della Farnesina ha deciso di anticipare il loro rimpatrio, come per gli altri connazionali. Cinque anni fa la regione Emilia-Romagna aveva varato un piano da 3.000 alloggi low cost. Il progetto adesso è fermo. Sentiamo Francesca Bussi. Cantieri bloccati per colpa della crisi. A quasi cinque anni dal suo varo, il piano 3.000 alloggi dell'Emilia-Romagna pare essersi definitivamente arenato. Nel 2006 la regione aveva varato un programma di credito agevolato. Aziende edili, cooperative di costruzione e comuni avrebbero dovuto recuperare o realizzare abitazioni destinate alla locazione o alla vendita privati a prezzi inferiori a quelli di mercato. La regione avrebbe dovuto coprire il costo degli interessi sui mutui stipolati. La spesa prevista era di 145 milioni di euro a fronte di 2.500 abitazioni e 630 posti letto. Ma il progetto si è rivelato un flop. I lavori sono partiti per circa 900 alloggi e 30 posti letto, meno della metà di quelli previsti. A causa della crisi è tutto bloccato. Banche e aziende hanno fatto dietro front. Ora la regione ha dirottato parte delle risorse inutilizzate su un bando di housing sociale da 30 milioni di euro che prevede finanziamenti a fondo perduto ed è rivolta a imprese dili, onlus e fondazioni. Inchiesta Uniland. Il Tribunale per il riesame ha revocato gli arresti domiciliari all'ex patron Mezzini e ai due dirigenti Claudio Morzenchio e Maurizio Zuffa, accusati di agiotaggio. Secondo i magistrati non vi sono indizi sufficientemente gravi. Passiamo ora all'economia. L'Emilia Romagna è più povera. Tra le regioni italiane è quella che ha ridotto di più il PIL pro capite nel periodo 2000-2009. Secondo i dati Istat sui conti economici regionali, l'Emilia Romagna perde quasi 10 punti in 10 anni, nonostante mantenga una soglia elevata di ricchezza per ciascun cittadino, circa 24 mila euro all'anno contro una media nazionale di 20 mila. Passiamo al cinema. Da oggi al via al Lumière il concorso Visioni Italiane. Ce ne parla Stefania Persico. Cortometraggi, documentari e film sperimentali di giovani autori, spesso fuori dal mercato, arrivano sul grande schermo del Lumière. È Visioni Italiane, rassegna dedicata al cinema e all'audiovisivo del nostro paese. A inaugurare il festival stasera sarà Così lontani, così vicini. Un mediometraggio di Niccolò Manzolini e Matteo Musso sui migranti di seconda generazione. La giornata di domani sarà invece dedicata alla casa di produzione emiliana Pulse Media e al film Spezza Catene di Stefano Savona. La rassegna, aggiunta alla 17esima edizione, si articola in nove sezioni, dove troveranno spazio anche i corti di alcune scuole primarie dell'Emilia Romagna. In programma anche convegne e workshop per riflettere su come fare cinema a Bologna. Ed ora lo sport. Nel pomeriggio sarà recuperata la partita Bologna-Roma, che il 30 gennaio era stata sospesa per neve. Ci dice tutto Gabriele Lippi. Si riparte da lì, dal diciassettesimo minuto e da quel calcio d'angolo mai battuto per colpa della neve e della decisione prudente dei due capitani. Bologna-Roma finirà 24 giorni dopo il suo inizio, altro che 90 minuti, e Malesani proverà a vincerla da subito, senza Amoras e Portanova, ma con Britos e Meggiorini e con un papone in più in panchina. Ma soprattutto ci proverà ancora una volta con Marco Di Vaglio, che da buon laziale non ama troppo la Roma, già punita l'andata con una doppietta negli ultimi 15 minuti, capace di trasformare in un pareggio insperato quello che sembrava una sconfitta ormai certa. Dall'altra parte c'è Vincenzo Montella, in panchina stavolta, come tante altre, ma adesso da allenatore. Quello stesso Montella, che quando giocava di gol al Bologna ne ha segnati nove. E poi c'è Totti, capitano, allenatore in pectore e simbolo di una squadra in crisi d'identità. Ecco perché battere la Roma è difficile ma non impossibile. Ecco perché, ancora una volta, sperare in un'impresa al Dallara è lecito. In conclusione, una notizia che riguarda la nostra testata. Il collega Vittorio Morisco, barese di 28 anni, ha vinto il premio Luca Savonuzzi, finanziato dalla Fondazione Carisbo e intitolato alla memoria del caporedattore di Repubblica Bologna scomparso nel 1988. A Vittorio, le congratulazioni della redazione. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e a domani.